Ciao a tutti gli amici del CAI, sono Luca Schiera e vi invito come me e come tutti a restarvene a casa, per il motivo che tutti sappiamo. Io sono tornato da alcuni giorni quarantena, per mia fortuna, e adesso sono qui a casa a passare un po' il tempo, me lo divido un po' tra mi alleno, alla sbarra, al trave, a corra, a qualche numero, mi sono fatto un programmino per qualche mese, poi cucino un po', che mi piace quando ho tempo per farlo, magari tante volte ho un po' meno tempo per farlo, quindi faccio cose un po' più semplice, adesso ho un po' l'occasione per fare qualcosa in base a quello che è disponibile anche, e poi leggo qualche libro, ne ho qui qualcuno, ovviamente si parla di montagna, quindi vi consiglierò almeno, vi faccio vedere cosa sto leggendo io in questo momento, questo libro, bloccami, che mi è stato prestato, poi sto leggendo questo a corda tesa dei Freppelli Uber, bello, due leggende dell'arrampicata e dell'alpinismo, e questo che è un po' più particolare, si chiama Hukinap, è un manuale, che approfondisce un po' tutte le tecniche di arrampicata artificiale, di come muoversi su pareti, ha degli spunti molto interessanti per chi mi piace un po' trovare un po' questi trick, e lo consiglio a tutti, e quindi mi invito un po' questo, di starci se ne tutti a casa, meglio lo facciamo, cioè meno usciamo e prima si spera finirà tutto questo, le montagne saranno sempre lì, salvo qualche sporadica frana più o meno, rimarrà tutto come prima, e poi impegnandoci tutti insieme potremmo tornare a fare quello che più ci piace. Grazie